Preoccupa l'escalation della guerra in Ucraina. Da Bologna giunge l'appello del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, insieme alle associazioni cattoliche e ai movimenti non violenti, per chiedere che l'Italia ratifichi il trattato contro l'uso delle armi nucleari. Ascoltiamo. Da Bologna i rappresentanti delle organizzazioni cattoliche dei movimenti ecumenici e non violenti, su base spirituale, che hanno firmato l'appello per chiedere l'adesione dell'Italia al trattato di proibizione delle armi nucleari, si sono ritrovati con il cardinale di Bologna Matteo Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana, per rilanciare l'appello all'Italia, ratifichi il trattato contro le armi nucleari. Il trattato, ricordiamo, è in vigore da gennaio 2021, ma l'Italia non lo ha ancora ratificato. Ci sono stati anche incontri in Austria, a cui l'Italia però non ha partecipato neanche come paese osservatore. Ogni giorno, in più della guerra senza fine in Ucraina, apre allo scenario di un'apocalisse nucleare. Per il presidente Zuppi non bisogna permettere che l'uso di armi nucleari diventi convenzionale, cioè si normalizzi. Un dialogo anche solo esplorativo è essenziale. Se entra in campo l'arma nucleare ci sarà uno stravolgimento senza ritorno. E facendo proprio l'appello di Papa Francesco, Zuppi torna a chiedere ai responsabili di questa guerra di fare tutto ciò che è nelle proprie responsabilità per porre fine e alla guerra in corso, senza farsi coinvolgere in pericolose scalesce. Nel meeting bolognese sono state ricordate i grandi figure della Chiesa italiana come Don Zeno Santini di Nomadelfia o Don Primo Mazzolari o Don Tonino Bello. Figure del passato che ci ricordano tanta memoria di dolore, ha sottolineato il Cardinale, ma che ci hanno trasmesso la consapevolezza di essere nati dalla resistenza e dalla liberazione. L'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controverse internazionali, è frutto di sangue e sofferenze immane. Abbiamo bisogno di politica e profezia, ha detto Zuppi, e di costringere la politica ad essere all'altezza della profezia e non a fare affari. Ha ringraziato tutti i presenti al meeting perché molte vostre realtà, dice, stanno sul campo, nei tanti pezzi di guerra e non si sono mai arrese. La grande visione è quella dell'enciclica Fratelli Tutti, che al numero 262 ribadisce come l'obiettivo finale della eliminazione totale delle armi nucleari sia una sfida, un imperativo morale e umanitario. Non meno importanti, gli appelli poi dei referenti e delle 80 associazioni firmatari dell'appello a rilanciare davanti al decisore politico il dibattito pubblico sulla pace. La pace, è stato ribadito, non è un fatto solo dei cattolici.